Non un omicidio mirato, ma un'esecuzione di ripicca verso il clan rivale. Il 21enne Cristian Midio, ucciso la sera del 3 novembre scorso a Bari, all'angolo tra via Giulio Petroni e via Giuseppe Pellegrini, sarebbe scaturito, secondo gli inquirenti, da un affronto subito dalla compagna di un componente del clan Diomede, Giuseppe Simeone, insultata e aggredita da una donna vicina al clan Anemolo. Per questo motivo Simeone, 33 anni, è stato arrestato nelle scorse ore in un'operazione condotta dalla squadra mobile della questura di Bari e dal Gico della Guardia di Finanza, come mandante dell'omicidio, insieme al 46enne Nicola Angiola, che avrebbe partecipato al delitto. Simeone, intercettato, avrebbe detto ad una terza persona, attualmente ricercata e indagata, sparate a chi trovate, sparate. L'omicidio rientra tuttavia nella lotta tra il clan Diomede e il clan Anemolo. Simeone, il latitante dall'11 settembre per rapina e possesso di armi, è stato trovato in un'abitazione a San Gerolamo, di disponibilità di Nicola Angiola, con la compagna e altre persone, tutte indagate per favoreggiamento. A rivelare i particolari dell'omicidio è stata la compagna di Simeone. Le perquisizioni si sono poi allargate ad appartamenti nel quartiere Carrassi di Bari e a Palo del Colle, dove è stata rinvenuta la pistola calibro 45, tagliata in più pezzi, ritenuta l'arma del delitto, parte di un vero e proprio arsenale sequestrato dalle forze dell'Odine. Un Kalashnikov dorato, completo di serbatoio e 30 cartucce, una pistola mitragliatrice di marca sconosciuta, calibro 7,65, con due serbatoi, di cui uno rifornito di 29 cartucce, una mitragliatrice Scorpio con 12 cartucce, una pistola salve modificata, uniformi della Forza dell'Ordine, giubetti antiproiettile e una cassetta contenente banconote di vario taglio, per la somma complessiva di 51 mila euro. Simeone, interrogato dagli inquirenti, avrebbe confermato quanto detto dalla compagna, ammesso di aver fornito l'arma per uccidere Midio e avrebbe anche confessato un tentato omicidio sconosciuto anche agli inquirenti. Cerchiamo di dare delle risposte tempestive, coerenti e strutturate, devono segnare anche un attestato di fiducia da parte della comunità verso le forze di polizia per cercare di stimolare tutti a dare una collaborazione sostenibile alle forze di polizia.